Il crocifisso risorto ci invita a non avere paura anche in questo tempo di pandemia perché Egli è con noi, Egli ha vinto il mondo. E se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Allora aiutiamoci a vivere il Vangelo e a riconoscere anche durante questo tempo così impegnativo come il nostro la visita del Signore Gesù che è con noi, che cammina con noi, che è per noi. E vorrei lasciarvi infine un triplice interrogativo per poter cogliere i segni pasquali dentro la nostra vita. E' come se il Signore risorto rivolgesse a ciascuno di noi questa domanda. La prima. In questo tempo di pandemia siete diventati più umili? La seconda. In questo tempo di pandemia siete diventati più buoni? E la terza, infine. In questo tempo di pandemia siete diventati più solidali gli uni con gli altri? Il Signore Gesù ci aspetta con le nostre risposte. La pace del Signore e la gioia della Pasqua sia con tutti voi. Alleluia.